se tu ti puoi in un barattolo eccoci ritornati in fair 3 del grande potente e messaggi ci sentiamo in un barattolo e ora ci sentiamo sbattuti di santo io pure che sta succedendo? no lo so tutto buio tutto nero no ecco ci troviamo di nuovo senza armi al solito mi siete più alti? allora non perfetto e dopo non mi sento più alti non è più alti non è più alti non è più alti potete vedere quella cosa cosa c'è qua? ah non c'è questa ciao! mmm questo non sembra che fuma però che non mangia ma c'è tanta 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 fame sentiamo un barattolo che cammina che è vero? sentiamo un barattolo che è vero? sentiamo un barattolo che è vero? sentiamo un barattolo che è vero? sentiamo un fischio e sentiamo un casino di rumori e che sta facendo questo? perchè sta lì? eh lo si sente il fischio qua si sente il fischio? ah che ti fa un fischio? non lo so ma poi caccio cosa succede? mamma sei tu? lasci scassare il caccio mamma! mamma mia! eh maronna santa! ci rompi perchè 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 non penso proprio a me? naturalmente deve salversi la vita loro è un barattolo è un barattolo ma proprio vede quello come l'hanno ammazzato è caduto guarda qua girati quello è stato spiaccicato a un sagodo mi piace avvenuto quando deve si per quanto svolgare un bambino e l'unico è il bambino da una ma si stompisca si stompisca tutti i rumori strani ma si stompisca 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 ma che ci resta a fare quale vede che ho problemi avete problemi di dd vinceremento si incendia subito si è rotto con le gambe 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 Absolutamente. 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 Excuse me! Abonadre. Abonadre! アンド! Abonadre! Abonadre! Abono! Nei! Abono! Abono! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.